Ciao, sono Giuseppe. Da 15 anni che sono nella fede, fin dal primo giorno il mio desiderio è stato quello di annunciare la parola di Dio. Qualche mese fa mi sono trovato a scrivere qualcosa che per me è stato un messaggio da parte di Dio e volevo renderlo pubblico. E così non sapevo come fare. Ero reduce da una conferenza, acquistai nella conferenza un libro e alla fine di questo libro trovai scritto l'indirizzo della Cassettitrice Evangelista Media. Così io contattai la Cassettitrice Evangelista Media e ho trovato un personale disponibile, professionale e decisamente cordiale. Durante la stesura del libro, attraverso la loro esperienza e la loro efficienza, quello che per me era un sogno, oggi è diventato una realtà. Così anche tu, se come me, hai un messaggio nel cuore da renderlo pubblico, attraverso la Cassettitrice Evangelista Media, quello che era un semplice sogno, oggi può diventare una meravigliosa realtà. Dio ti benedica!